E' una storia a lieto fine quella di Monchi, un piccolo Jack Russell che aveva avuto un problema cardiaco, poi grazie ad una raccolta fondi è stato operato e adesso sta bene e ha trovato casa. Abbiamo fatto l'ecocuore di controllo giovedì, è andato tutto bene, deve fare solamente un po' di terapia per rafforzare o finire insomma tutta la procedura che abbiamo fatto, perché l'operazione è stata veramente importante e ha trovato casa, ha trovato casa da due sorelle che hanno un canino che è un pochino più grande di lui e si fanno compagnia. Abbiamo già fatto i primi incontri con quest'altro canino per fargli conoscere, insomma è andato tutto bene, siamo felici. Ecco una storia a lieto fine, insomma come purtroppo a volte non ce ne sono, però ecco quando ci si impegna, quando ci si mette il cuore alla fine le storie finiscono bene. Sì, noi il cuore lo mettiamo da tutte le parti possibilmente e sì questa è stata proprio veramente una cosa impegnativa però bella, insomma lui non avrà mai diciamo problemi per questa patologia che ha avuto perché l'operazione è considerata definitiva, nel senso una volta fatta l'operazione abbiamo risolto il problema e quindi farà la sua bellissima vita da cucciolo. Ecco l'appello è sempre quello, ecco di rivolgersi agli esperti per qualsiasi problema o dubbio che si possa avere nei confronti dei nostri amici animali. Sì, poi siamo anche in un periodo molto bello nel senso che ci sono anche gli esperti nei veterinari, ora invece prima la figura del veterinario dicevamo che era generico, invece ora abbiamo proprio gli esperti, ci sono le università, insomma possiamo rivolgersi veramente dove vogliamo, ecco.